buongiorno ragazzi io sono furio zuliani e sono un fotografo per trieste in cartolina sono qui per dare dei consigli a chi ha deciso di partecipare al concorso un libro da consigliare nella categoria fotografia non è importante tanto il mezzo fotografico che utilizzate quindi non è importante se state utilizzando la fotocamera del vostro smartphone se state usando una reflex una mirrorless una punta e scatto una polaroid questo non cambia l'importante sono due cose uno il messaggio che volete trasmettere e seconda cosa un po di tecnica che utilizzerete per questo voglio darvi cinque consigli per come scattare al meglio le vostre foto innanzitutto partiamo dall'elemento fondamentale la luce fotografare vuol dire scrivere con la luce quindi capirete bene che molto importante avere una luce adeguata e conoscerla bene la luce esterna durante il giorno cambia molto come sapete quindi all'orario dell'alba e al tramonto abbiamo una luce molto calda e più diffusa e che crea ombre molto lunghe al contrario durante il giorno abbiamo una luce molto dura molto diretta e che crea forte ombre e forti contrasti tra luce ombra appunto per questo motivo quindi dovete tener conto del tipo di fotografia che volete scattare e capire in che orario del giorno volete scattarla ovviamente poi cambia anche se c'è una giornata di pioggia o una giornata di sole se fate una fotografia all'interno potete usare anche diversi metodi oltre ad usare la luce naturale che viene dall'esterno potete anche utilizzare un flash o una lampada ma state attenti perché in questo caso cambierà molto l'effetto della colorazione il cosiddetto bilanciamento del bianco della fotografia secondo aspetto che voglio porre alla vostra attenzione è quello dello zoom soprattutto nel caso in cui utilizzate uno smartphone per scattare la vostra foto l'unico zoom che potete utilizzare sono i vostri piedi mi spiego meglio avvicinatevi o allontanatevi dal soggetto per zoomare una foto in modo da evitare una perdita di qualità dico questo perché negli smartphone quando facciamo lo zoom per scattare andiamo a perdere qualità lo smartphone cosa fa semplicemente guarda la stessa scena e la ritaglia prima di scattare in termini tecnico questo si dice croppare quindi l'immagine viene della di una dimensione molto più piccola in termini di pixel allo schermo la vedremo uguale ma la vedremo molto più sgranata a questo punto dal momento che vi spostate avanti o indietro per zoomare passiamo al terzo consiglio che è quello di spostarvi per trovare nuove angolazioni spostatevi a destra o sinistra arrampicatevi in alto o accusciatevi in basso e cercate nuovi punti di ripresa in modo da sorprendere chi guarda la foto ma anche per voi stessi per trovare qualcosa qualche dettaglio diverso che non vi aspettavate andiamo ora a vedere due semplici regole compositive che secondo me sono veramente la base della fotografia la prima è quella dell'orizzonte quindi l'orizzonte di una fotografia deve essere diritto piatto di 180 gradi mi spiego meglio con un esempio di una mia foto di qualche anno fa alla barcolana questa qui è la barcolana di trieste come vedete la linea dell'orizzonte quindi la divisione tra mare e cielo è perfettamente piatta dobbiamo evitare quindi di fare foto con questo effetto qui quindi un mare che sembra in discesa anche il faro risulterebbe in questo caso storto perché non dà un'idea di equilibrio e non mostra quella che è la realtà potete fare sì una foto leggermente inclinata o inclinata ad esempio di 45 gradi ma deve essere evidente che è un sforzo artistico quindi deve essere evidente che è stato fatto di proposito e non per distrazione ultima regola che voglio consigliarvi è la regola dei terzi è una regola molto famosa nella fotografia e sostanzialmente ne avete un esempio nei vostri smartphone ma anche in qualsiasi macchina fotografica negli smartphone va impostato quindi se andate nelle impostazioni dovete cercare l'opzione mostra griglia in quasi tutti gli smartphone direi ormai è presente questa opzione e ci sarà una griglia di 9 rettangoli della mostra ho fatto questa cosa con il pennarello su una foto già scattata quindi questi sono i 9 rettangoli la regola dei terzi dice semplicemente che è meglio o sarebbe opportuno ma non è ovviamente obbligatorio porre il soggetto in una delle quattro intersezioni di queste linee come vedete qui ho messo nell'intersezione in alto il castello di duino in questo modo chi guarda la foto guarderà dapprima il soggetto principale in una delle quattro intersezioni ma poi andrà a vedere anche nelle altre tre intersezioni cosa succede se al contrario mettessimo il soggetto principale solo al centro di questo rettangolo allora probabilmente lo spettatore perderebbe alcune informazioni nel senso che si soffermerebbe a guardare il rettangolo principale e non guarderebbe poi cosa succede nel resto della scena questi sono solo alcuni consigli che vi posso dare ovviamente ce ne sarebbero un'infinità e se volete avere qualche idea qualche spunto creativo potete andare a vedere i miei canali instagram dove ci sono molte molte foto soprattutto di trieste quindi andate a vedere il instagram trieste in cartolina oppure quello mio personale che si chiama fz underscore ts quindi fz di furio e zuliani underscore ts come trieste vi aspetto intanto non mi resta altro che augurarvi un grosso in bocca al lupo mi raccomando la cosa principale divertitevi create fate qualcosa di originale e poi spero che ci sia anche in futuro la fotografia per voi come un vostro come una vostra passione un vostro divertimento ancora in bocca al lupo e buona giornata